Siamo con Slobodan Kovac, allenatore della Sirza Fete Perugia, una bella vincente vittoria contro la Club Italia Roma, una squadra che ha dovuto soffrire contro questi giovani ragazzi che sono pieni di entusiasmo e non sono mai domi, una squadra che però è riuscita a far immergere le sue qualità. Ma veramente complimenti a questi ragazzi, complimenti a mia squadra specialmente perché è sempre difficile giocare queste partite dove diciamo tre punti dovevano essere scontati e abbiamo visto che questi ragazzi hanno fame di vittoria e ci hanno messo in difficoltà. Io sono contento perché anche non giocando bene abbiamo vinto, significa che una certa qualità abbiamo perché ogni volta quando abbiamo spinto un pochino loro rimanevano a 14-15 punti. Questo significa che abbiamo potenzialità di fare molto molto ancora meglio. E comunque oggi era importante ritrovare la vittoria dopo la battuta di arresto con Castellana, una vittoria che porta tre punti in classifica e solleva ancora di più il morale di questa squadra che sta navigando nelle zone alte della classifica. Ma sicuramente dovevamo vincere per forza, specialmente dopo la partita contro Castellana dove abbiamo avuto vittoria in mano e ci ha sfuggito. Oggi non era così ma noi dovremmo guardare partita per partita e fare più punti possibili. Adesso vi aspetta un difficilissimo derby fuori casa a Città di Castello. Che partita prevedi? Derby è sempre derby. Penso che non c'è bisogno di motivazioni speciali. Noi dobbiamo fare il nostro, battere molto bene, essere ordinati al muro e provare a sbagliare di meno di loro. In senso che sicuramente sappiamo tutti che è campo molto caldo ma possiamo dire che anche abbiamo giocato meglio fuori casa che in casa. Così sicuramente che sono fiducioso e pronto di lottare fino all'ultimo punto.